FEDE TV, TV di comunità! Sentito di subguaglianza, cosa pensa? Penso al gusto di discriminare gli altri per sentirsi parte di uno standard eventualmente giusto e corretto. Purtroppo che disuguaglianza si intende spesso qualcosa di negativo e quindi gli effetti della disuguaglianza, almeno a livello politico, sono sempre un po' catastrofici. È un livello per cui si ragiona dal basso, invece c'è un buono scambio e c'è tanta solidarietà tra le persone che non sono uguali, quindi non condividono nemmeno magari gli stessi saperi o le stesse culture e spesso, insomma, tra poveri ci si capisce. Credo che il lavoro da fare sia soprattutto culturale, anche semplicemente da persona a persona, perché sì, è una cosa proprio di un'educazione quasi sentimentale e a capire che in realtà disuguaglianze ci devono essere in positivo, ma poi quando si tratta di esprimere se stessi in ambito qualsiasi, cioè dei sentimenti lavorativi, eccetera, ognuno dovrebbe essere libero sia di fare quello che crede sia di lasciar fare quello che gli altri credono. Grazie.